No, non so. Noi abbiamo, pensa, casualmente qua in studio un misurologo, che è Paolo Noisa. Le mani acconca a forma di tette. Ecco, dobbiamo misurare, scusami, è un'ustanza del marco. Bisogna però determinare qual è la lunghezza di misura. Vanno a dire cazzate, di mettere le mani sulle tette, si dice se è bene o male, la tette. Io ti metto in posizione di una mano sul seno e chiedi con la misura. Eh, mi devi dire, visto che si dice che il seno è perfetto, quello che ci sta nella coppa di champagne, che ha reso che la tua mano sia più grossa nella coppa di champagne, quindi possiamo determinare che la mia tetta possa essere più grossa. quando gli parlavi così velocemente. No, mai. Aspetta, è molto bello, è molto sexy. Proviamo a baciarlo, come baciano. Aspetta, prima vediamo la tetta. Scusi, misurolo, dopo prego. Scusi. Fai pure. Attenzione, attenzione. Occhio, occhio. Buono, buono. Terza coppa C. Tre, è giusto? Direi che è veramente... Bravissimo! Grazie, grazie. Grazie. Mi pure prima dell'intervento? No, sono tutta n'acce. La tua, la tua, confermo. Grazie.